A partire dalle ore 17 nel Parco Fluviale Davide De Carolis a Teramo si accenderanno i riflettori su uno degli eventi più attesi dell'anno. Stiamo parlando di Aspettando il primo maggio la rassegna musicale giunta alla sua quindicesima edizione, organizzata dall'Associazione Culturale Big Match che promette un pomeriggio e una serata di grande trattenimento, ma anche riflessione. C'è in questa fase, stiamo terminando chiaramente lo smontaggio della feria dell'agricoltura, la pulizia dell'area e chiaramente predisponendo tutta la sicurezza, perché è un evento dove aspettiamo diverse migliaia di persone, quindi chiaramente con la questura che ringrazio stiamo predisponendo un piano molto complesso. Per assicurare il successo e la sicurezza dell'evento sono state stabilite regole precise per l'accesso e il comportamento all'interno delle aree del parco. L'ordinanza è proprio sul vetro, in realtà la somministrazione di bevande alcoliche sarà possibile, chiaramente nei limiti delle aree di pubblico spettacolo, perché sono due aree, un'area di pubblico spettacolo e un'area di somministrazione di alimenti e bevande. Il tutto chiaramente è seguito da vicino da tutta una serie di forze, chiaramente di vigilanza che cercheranno di garantire la sicurezza. Per facilitare la sosta e ridurre il traffico è stato concordato un prezzo speciale per i parcheggi multipiano nelle vicinanze dell'evento. I parcheggi sono quelli del San Francesco e di San Gabriele, quindi vanno utilizzati assolutamente quei parcheggi, anche perché hanno dei prezzi convenzionati proprio per la serata e consentono di accedere direttamente all'area. Non ci sono altri accessi, quindi assolutamente devono essere utilizzati quei parcheggi, fino a poi chiaramente l'area avrà una capienza di 5.000 persone in totale. A raggiungimento di questa capienza dovremmo interrompere l'accesso all'area e poi in caso di uscita di utenti potremo farli accedere. Quindi queste sono le indicazioni e poi chiaramente non portare nessun oggetto con sé senza fare l'elenco che possa essere pericoloso nell'area degli eventi, perché poi comunque verranno fatti lasciare all'esterno.